Mr. Lei prima della partita aveva detto che doveva essere un buon test in vista del campionato, l'hai stato? Sì, sì, molto, molto, quanto è una squadra che ha dimostrato sul campo di avere delle buone qualità. Non a caso l'anno scorso le prime tre partite che ha giocato in questo campionato aveva nove punti, quindi in teoria. È una squadra di tutto rispetto, noi abbiamo fatto la nostra partita, purtroppo peccato per l'espulsione di Martelli, magari un po' adesso in questo momento la fatica non ti fa ragionare più di tanto, ha risposto all'arbitro. Siamo rimasti in dieci, poi da lì la partita è cambiata, ma se fossimo rimasti 11 contro 11 probabilmente l'avremmo portata a casa. Dispiace per i ragazzi, soprattutto per il risultato, perché è una vittoria da sempre morale per le partite successive, però noi continuiamo il nostro lavoro senza nessun problema e continuiamo a lavorare e faticare come abbiamo sempre fatto fino adesso. Quanto ha visto del suo lavoro questi primi 90 minuti? Ma intanto oggi la squadra non era al completo, c'era qualche defezione o per queste nuove regole che ci sono o per Maurizio Alberti per un problema muscolare, che in questo momento può capitare, però la squadra ha reso tanto, nel senso che anche 11 contro 10 ha sofferto, è una squadra molto giovane, noi abbiamo finito credo con 5 o 6 ragazzi del 2004 in campo, 2001 anche Martini e quindi insomma è una squadra che è in pieno lavoro per cercare di arrivare alla fine della stagione con il mantenimento della categoria, noi più di quello non possiamo sperare e se possibile magari far giocare qualche ragazzo giovane in più.